La finestra su Ferrara, attualità cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben trovati all'ascolto della finestra su Ferrara, oggi come ogni giorno apriamo la nostra finestra sulla nostra città per parlare di sanità, per parlare di salute. Siamo durante il mese della prevenzione alcolica e con noi oggi a parlare di questo tema sono le psicologhe Roberta Nocella e Natascia Farina dell'unità di strada del CERD di Ferrara. Inizierei con una prima domanda proprio a Roberta Nocella chiedendo come opera l'unità di strada del CERD. Sì, salve, buongiorno a tutti. Come unità di strada ci occupiamo prevalentemente di prevenzione ma prevenzione su più piani, quindi parliamo di una prevenzione primaria, di una prevenzione secondaria e di una prevenzione terziaria. I luoghi in cui operiamo sono vari, quindi noi possiamo operare sia all'interno del servizio e quindi accompagnando le persone che presentano un problema di dipendenza, ma anche fuori, in luoghi decontestualizzati. Quindi operiamo ad esempio nelle scuole, operiamo in rete con altri servizi, non necessariamente solo i servizi sanitari, con lo scopo di informare, informare sui rischi legati al consumo di alcol e sostanze. Oggi parliamo proprio di alcol perché come servizio stiamo assistendo ad un aumento delle richieste, soprattutto legate proprio ai problemi, a un uso problematico di sostanze psicoattive e nel caso specifico legato ad esempio all'alcol ma non solo. Perché stiamo assistendo chiaramente ad una fase storica molto difficile, dove ognuno di noi si è dovuto confrontare con delle problematiche notevoli legate allo stress indotto dalla pandemia. Quindi stress legato non necessariamente solo all'isolamento sociale, ma anche allo stravolgimento di tutta quella che è la vita personale, dalla riorganizzazione familiare a una quotidianità che è venuta a mancare. Ecco che le fasce di popolazione che sono state colpite maggiormente sono proprio quelle che presentavano già una situazione vulnerabile, una vulnerabilità legata a una situazione sociale, una vulnerabilità economica o delle condizioni precarie di salute psicofisica. E chiaramente lo stress che stiamo vivendo può alle volte farci sentire in una posizione in cui non abbiamo le risorse per poter affrontare un dolore o una sofferenza. Proprio per questo motivo il rischio di cadere in comportamenti problematici può essere molto elevato. E il rischio anche di trovare delle strategie che possono alleviarci da un dolore in una maniera immediata è proprio dietro l'angolo questo rischio. Per cui spesso molte persone trovandosi ad affrontare questa sofferenza possono trovare delle soluzioni come dire facili. E tra queste soluzioni troviamo l'uso di psicofarmaci o l'uso di alcol. Un uso che però stiamo vedendo che diventa problematico proprio perché è un uso che è finalizzato proprio ad alleviare questo stato di sofferenza. Ecco perché è molto importante essere adeguatamente informati sui rischi. Natascia Farina, la provincia di Ferrara come si colloca nel contesto nazionale rispetto a questo problema dell'aumento di uso delle sostanze alcoliche? E' dovuto come diceva giustamente la sua collega Roberta Nocella anche a questa pandemia e alle problematiche che ci ha portato? Allora diciamo che come CERT siamo nella media nazionale a livello di tutta la provincia. Però nel primo lockdown poi anche nel secondo abbiamo constatato comunque un aumento. C'è da fare una specifica. L'alcol è una sostanza psicoattiva o droga legale. Il fatto che appunto sia una sostanza legale aiuta l'accessibilità in qualche modo. Ovviamente ci sono delle limitazioni, cioè sotto i 18 anni teoricamente non si può né acquistare né consumare alcolici e ci sono le limitazioni del consumo di alcol alla guida. Però diciamo che il fatto che l'alcol sia una droga, una sostanza psicoattiva legale non ci dice tutto rispetto alla quantità di consumo che c'è in Italia. Un altro elemento che dobbiamo considerare in riguardo è il fatto che la nostra tradizione è una tradizione che viene definita bagnata, una cultura bagnata, proprio perché l'Italia da sempre nella sua tradizione è accompagnata dal consumo di alcol sia in termini di consumo ma anche di produzione. Dunque questa rappresenta una tradizione molto importante nel connotare socialmente l'utilizzo di alcol. Infatti questo mese della prevenzione alcologica ci permette di porre l'attenzione su questa caratteristica di questa sostanza che a volte è in qualche modo sottovalutata o comunque socialmente accettata. Chi ha un problema di alcol molte volte non viene considerato un malato, un dipendente come invece si caratterizza qualsiasi altra dipendenza da sostanze diciamo illegali ma lo si considera più una persona che ha un vizio oppure una modalità di stare con le persone, di fare festa, di festeggiare insomma in qualche modo, di essere sopra le righe. Questi elementi in realtà che connotano il consumo di alcol sono enfatizzati dalle caratteristiche stesse che all'alcol. Infatti l'alcol come sostanza, anche se apparentemente ci può sembrare una sostanza un po' eccitante inizialmente perché ci disinibisce, in realtà è una sostanza sedativa che va a sedare proprio la nostra parte più razionale. Sedando questa parte più razionale ha in realtà un effetto che permette di socializzare meglio e dunque di sentirsi più disinibiti, più sciolti, di riuscirsi a approcciare con le persone in modo più tranquillo, senza pensare alle conseguenze ed è proprio una caratteristica fondamentale che va a fare pressione su quelle persone che sono considerate un po' più timide, un po' più introverse, dunque che fanno più fatica a mettersi in gioco nelle relazioni con gli altri. Un altro aspetto che abbiamo rispetto all'alcol che incentiva il consumo di alcol è il significato che noi diamo al bere, tipo l'idea di staccare a fine giornata, di rilassarci, di non pensare, di conciliare anche il sonno e anche questi aspetti fanno parte delle caratteristiche e degli effetti stessi che l'alcol ha. Diciamo che in questo periodo di limitazioni noi abbiamo visto comunque un aumento anche rispetto delle persone che avevano concluso positivamente un programma per la dipendenza d'alcol. Come diceva Roberto, ma nei momenti di stress noi tendiamo in qualche modo a mettere in atto quei comportamenti che se anche poco funzionali ci sono serviti per affrontare lo stress e le situazioni difficili. Dunque, limitazioni, una persona che usava alcol anche se è riuscita in qualche modo a stare meglio quando è stressata e in qualche modo rimette in atto il comportamento. Allora, una specifica, non tutto il bere in sé in qualche modo è da considerarsi patologico, problematico, una dipendenza, una malattia, però ci sono alcune domande che forse ci possono aiutare a porre un po' l'attenzione. Ad esempio, ho bisogno di bere alcol per essere in un certo modo, per stare con gli altri, per sentirmi più disinibita, per socializzare meglio, oppure non riesco a farne a meno, oppure non mi diverto se non ho l'alcol, dunque se non bevo io non riesco a stare con gli altri, non riesco in qualche modo a divertirmi, oppure l'altra domanda è ho compromesso delle relazioni o delle situazioni che per me sono importanti per il modo con cui ho di utilizzare l'alcol, oppure ho avuto delle conseguenze per le mie modalità di gestire l'alcol. Queste domande un po' ci pongono l'attenzione almeno su una riflessione, dunque se noi consideriamo che insomma queste aree rappresentano un po' un problema, a volte il chiedere a esperti delle informazioni può essere un primo passo da fare per prendersi cura di se stessi. Infatti in questo periodo di chiusura e limitazione ci siamo resi conto anche degli elementi che sono importanti per noi, che sono funzionali per la nostra qualità della vita e è importante prendersi cura di se stessi proprio, di curarci in senso molto più ampio e a volte il prendersi cura può rappresentare anche a volte un chiedere aiuto nelle situazioni di difficoltà. Il SET si occupa anche di questo, di dare informazioni a delle persone che ritengono di avere un problema rispetto al consumo di alcol o sostanze, ma anche gioco d'azzardo, oppure se si ritiene che un familiare, un amico, una persona cara possa avere un problema rispetto alle sue modalità di gestire l'alcol. Roberta Nocella, riguardo all'approccio all'alcol, noi sappiamo che naturalmente la vendita dell'alcol è vietata ai minori, però in molte case si trova alcol, si trova vino, si trovano super alcolici. Ecco, avete un'idea di qual è l'età nella quale si comincia a bere? In merito a questi dati purtroppo abbiamo dei dati allarmanti, nel senso che il consumo di alcol e di sostanze psicoattive in generale è sempre più precoce, quindi quello che noi abbiamo visto nell'ultimo periodo è proprio una diminuzione dell'età, per cui arrivano al servizio ragazzi molto giovani. Parliamo di un'età pre-adolescenziale addirittura, proprio per questo motivo che la regione si sta attivando, perché questa è una fascia di popolazione maggiormente a rischio e tra l'altro è anche la fascia che più sta risentendo degli effetti del lockdown. Chiaramente non possiamo attribuire questo fenomeno esclusivamente al lockdown, questo fenomeno si sta presentando proprio negli ultimi anni, tant'è vero che assistiamo ad un cambiamento negli stili del consumo. È chiaro che, come dicevamo prima, uno stress di questo tipo ha contribuito all'aggravamento della situazione. Rispetto alle attività dell'unità di strada, ecco, questo è un argomento molto delicato, proprio perché spesso non vengono rispettate le norme che vietano l'uso di alcol nei minori, ma l'uso di alcol è vietato ai minori proprio perché ci sono dei dati scientifici che spiegano proprio che i minori non hanno ancora la capacità di metabolizzare l'alcol, proprio perché il loro metabolismo e l'enzima specifico che è l'alcol di idrogenasi non è ancora completamente sviluppato. Questa è un'informazione che non sempre le persone hanno, soprattutto i gestori dei locali, per cui molto spesso, ecco, queste bevande alcoliche vengono vendute anche a dei ragazzi minori che si sottopongono a dei rischi notevoli. Quindi come unità di strada noi lavoriamo non solo con i ragazzi, con gli utenti o con le persone che possono avere un problema di dipendenza o un uso problematico, ma lavoriamo anche in rete con le associazioni e con gli adulti che a vario titolo entrano in contatto con la fascia giovanile. Vi ricordo che siamo nel mese della prevenzione alcologica e proprio di abuso di sostanze alcoliche. Stiamo parlando con le psicologhe Roberta Nocella e Natascia Farina dell'unità di strada del CERD della nostra provincia. Natascia Farina, qual è il percorso che fa o che può fare chi si rivolge a voi per cercare, diciamo, di affrontare quello che può essere un problema di abuso di sostanze alcoliche? Intanto facciamo una premessa. Il Servizio per le Dipendenze Patologiche fa parte di un Dipartimento Assistenziale Integrato che si chiama appunto Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, che si occupa in un continuo, in qualche modo, tra i suoi obiettivi di prevenzione, diagnosi, cura, trattamento e riabilitazione dall'infanzia all'età adulta. In particolare, appunto, il Servizio per le Dipendenze Patologiche si occupa di dipendenze, dunque delle problematiche legate alla dipendenza, sia rispetto alle sostanze che vengono definite sostanze psicoattive legali, come l'alcol e il tabacco, ma anche quelle illegali, principalmente eroina, cocaina e cannabinoidi, ma si occupa anche delle dipendenze da comportamento, come il gioco d'azzardo. I Servizi per le Dipendenze Patologiche si occupano di attività in un continuo tra riduzione del danno, prevenzione, diagnosi, ma rispetto alle dipendenze, dunque come si consuma una determinata sostanza, cura, trattamento e riabilitazione. Nell'ottica della riabilitazione, intesa come il maggior funzionamento, il massimo funzionamento possibile di una persona, con le sue potenzialità, nell'ottica di non cronicizzare il disturbo e di rendere le persone autonome. La presa in carico viene fatta della persona e del suo nucleo di riferimento, delle persone che per lui sono significative, perché la dipendenza è definita come una malattia cronica recidivante. Questo cosa vuol dire? Cronica nel senso che tende a diventare un funzionamento stabile e costante nella vita di una persona. Recidivante invece vuol dire che, appunto, come nelle situazioni di stress, la persona, anche se sta bene, tende a mettere in atto un ritorno al consumo. La dipendenza è una patologia che va a toccare tutte le aree di funzionamento della persona. Infatti l'equip del Servizio per le Dipendenze Patologiche è un'equip multidisciplinare, composta da medici, infermieri, educatori, assistenti sociali, psicologi e tecnici della riabilitazione psichiatrica, proprio perché la dipendenza va a interferire su tutte le aree di vita di una persona, dalla scuola al lavoro, alle finanze, alle relazioni, sia familiari che extrafamiliari, ma anche tutto quello che riguarda il corpo, la salute, le finanze, l'economia, ma anche tutti gli aspetti della legalità, dunque problemi con la giustizia. Al Servizio per le Dipendenze Patologiche si può accedere senza impegnativa e senza nessuna prescrizione da parte né del medico di base né da parte di nessun servizio. Una persona può accedere in modo autonomo. È ovvio che si richiede, soprattutto in questo momento, una telefonata per prendere un appuntamento. Questo intanto permette di non creare assemblamenti o attesi inutili e soprattutto in servizi che in questo momento si stanno attenendo in modo molto scrupoloso a tutti i provvedimenti per il contenimento del contagio. Dunque questo si fa per la tutela sia degli operatori che di tutti i fruitori del servizio. Non è un servizio di emergenza, questo è il caso di specificarlo, nel senso che volontariamente o anche per provvedimenti di tipo sia della prefettura o di tipo legale, una persona decide in qualche modo di essere presa in carico al Servizio per le Dipendenze. È necessario avere residenza e essere iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, dunque avere tessera sanitaria. Dunque in base alla propria residenza si fa riferimento al SERD di provenienza. Nella nostra provincia sono presenti 5 SERD, il SERD di Codigoro e il SERD di Porto Maggiore che fanno riferimento al distretto sud-est, il SERD di Ferrara e di Coparo che fanno riferimento al distretto centro-nord e il SERD di centro che fa riferimento al distretto ovest. Quindi diciamo per tutti coloro che si fossero incuriositi su questo argomento oppure che temano di avere dei problemi legati a questo argomento, non solo anche propri ma di un proprio familiare, c'è questa possibilità di contattare il nostro SERD dell'azienda sanitaria locale della nostra provincia. Ecco vorrei chiedere in chiusura a Roberta Nocella intanto se ci sono dei costi da affrontare per accedere a questo servizio e anche se c'è un sito di riferimento nel quale si possono trovare chiaramente anche i vostri contatti perché dare un numero di telefono in effetti per là di uno magari sta guidando non è il massimo ma se c'è un sito uno poi sa dove andare a cercare queste informazioni. Intanto il servizio è assolutamente gratuito quindi non comporta costi di alcun tipo. È possibile reperire informazioni direttamente sul sito dell'azienda USLA di Ferrara dove ci sono proprio i contatti di indirizzi e i numeri di telefono dei SERD che ha prima nominato Natasha. È importante anche sottolineare che si può accedere al servizio anche solo per chiedere delle informazioni, per avere un approfondimento e il servizio lavora in collaborazione anche con le altre realtà dell'azienda ad esempio lo spazio giovani per cui è possibile anche chiamare lo spazio giovani di Ferrara o lo spazio giovani di Bondeno per chiedere un approfondimento rispetto alle sostanze soprattutto per quanto riguarda la fascia più giovane. Bene, ringraziamo i nostri ospiti di oggi. Vi ricordo le psicologhe Roberta Nocella e Natascia Farina che fanno parte dell'unità di strada del SERD di Ferrara e quindi si occupano di tutte quelle che sono le dipendenze. Ci hanno ampiamente raccontato come si svolge il loro lavoro e ci hanno anche informato riguardo a quelle che possono essere le necessità di qualcuno che avesse una problematica del genere o avesse individuato che nella propria famiglia ci sono problematiche del genere e quindi ci hanno dato anche quelle che sono le indicazioni per poter contattare appunto questo servizio che vi ricordo è gratuito. Grazie a tutti voi per averci seguito fino a qui, grazie alle nostre ospiti. Grazie a voi, grazie a voi. A risentirci alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. A risentirci alla prossima puntata della Finestra su Ferrara.